Se vogliono venire a fare il digestore a Bellocchi, Falcinetto, Carrara, Cucurano, perché quelle sono le zone che verranno compromesse, bisogna che ci vengano con la forza perché noi faremo le barricate sulle strade su questo tema. Il sindaco Seri vuol fare la discarica a Bellocchi, noi non la vogliamo. Seri, in calza del vecchio, vuole trasformare Fano nella discarica della provincia. A Pesaro la sanità e a Fano le discariche. Se Ricci e compagnia Bella pensa di trasformare Fano in un bidone della spazzatura ha sbagliato i suoi calcoli ed i documenti in nostro possesso dimostrano che dopo mesi dal suo insediamento Seri ha nascosto questo piano. A suffragio della ipotesi della realizzazione dell'impianto che dovrebbe smaltire 60.000 tonnellate di rifiuti all'anno e dal costo di 28 milioni di euro, del vecchio porta in dote, allegata alla mozione, anche tutta una serie di documenti, compresa anche lo studio di fattibilità commissionato da Aset a Nomisma, dove vengono escluse altre aree, tra cui Monte Schiantello perché è troppo distante e falcineto per una pressione di esercizio del metano troppo elevata, rimanendo quindi nella collocazione e le condizioni solo idonee per Bellocchi, come zona indicata la più idonea. Altro punto che manda su tutte le furie il consigliere dell'opposizione, il fatto che questa centrale di smaltimento sarebbe poi a tutti gli effetti una discarica vera e propria, perché le 230 tonnellate al giorno necessarie per far funzionare l'impianto dovrebbero essere stoccate da qualche parte con l'impatto ambientale e sulla popolazione, che ben si può immaginare, oltre ad un traffico di ben 35 automezzi di raccolta che giornalmente dovrebbero fare la spola per portare umido e ramaglie poi da trasformare in gas metano. Con la mozione noi chiediamo che il documento che è stato votato in provincia, allato da parte del sindaco, venga respinto, che il protocollo d'intesa che è stato sottoscritto con queste società, Marche Multiservizi ERA, venga non firmato, quindi non sottoscritto, e soprattutto chiediamo che il digestore che era stato in primo momento pensato di fare a Montescantello e che dovrà servire questo digestore di scarica a cielo aperto tutta la provincia di Pasorubino e tutta la provincia di Ancona non venga realizzato a Bellocchi. È follia pura pensare di andare a compromettere le zone di Bellocchi, Falcinetto, Carrara, Cucurano, Rosciano con una discarica di fatto a cielo aperto che si andrebbe a instaurare lì, tra l'altro senza che questo venga deciso dal Consiglio Comunale che è sovrano. Il Comune di Fano va verso questa direzione, noi cercheremo di opporci e di bloccarlo.